Oltrepassato il quarto d'ora, siamo intorno al diciassettesimo minuto tra Chelsea e Crystal Palace, questo è il mercato Under Over Mezzogol su cui opereremo, ci sono delle condizioni dinamiche che ci hanno dato il check per poter cominciare ad investire, ne parlerò in un video a parte di quello che ho appena detto, adesso invece è arrivato il momento di programmare la nostra prima puntata, eccola qui in grafica, la prima puntata sul mercato Under Over 1,5, l'Over 1,5 25 euro a quota 1,66, la seconda puntata sarà oltre quota 2, quindi già a 2,22 in questo momento andiamo a mettere a 2,26, quindi un attimino più alta, eccola qui la seconda puntata è entrata in Chelsea e Crystal Palace, quando mancano pochi minuti alla termine del primo tempo e le altre puntate le faremo nel secondo tempo qualora non avvenisse nulla nel mentre tra Chelsea e Crystal Palace, intanto è arrivato il primo cartellino giallo della partita per Havertz e questa sicuramente è un'indicazione interessante per quel che mi riguarda nei match dove prevedo dei gol. 0-0 l'intervallo tra Chelsea e Crystal Palace, queste le statistiche con il Chelsea in progressione sul finale del primo tempo, Chelsea che sta cercando di prendere le giuste contromisure ad un Crystal Palace sorprendente in questo cammino di FA Cup. Abbiamo la nostra pianificazione sul mercato Under Over 1,5 con le due puntate messe sull'Over 1,5, nel secondo tempo, quindi ad inizio del secondo tempo avremo anche le altre puntate sempre su questo mercato e vedremo se il Chelsea finalmente dopo un po' di torpore riuscirà a sbloccare questo match. Ricordiamoci anche comunque le grandi fatiche di Coppa per il Chelsea, l'Aintractic-Francofort ad esempio ha pagato Dazio in maniera importante a Berlino quest'oggi e quindi è una condizione sicuramente da tenere d'occhio. E da qui non ci muoviamo più fino alla fine e ovviamente vedremo un attimino come andremo a gestire questa operatività in Chelsea-Crystal Palace. Loft check porta in avantaggio il Chelsea a Wembley al minuto numero 64 e adesso la gestione è molto semplice, nel senso che devo arrivare ad avere un profitto più o meno allo stesso livello della potenziale perdita che ci potrebbe essere. Quindi vado a vedere quanto mi costa. Eccola qui la situazione tra Chelsea e Crystal Palace. Qualora il potenziale profitto non fosse stato di 91 euro ma molto inferiore, poniamo il caso 50, 48, 47, è chiaro ed evidente che io l'over 1,5 per il protocollo che devo seguire l'avrei lasciato fino alla fine senza toccare assolutamente nulla. Questa quindi la situazione con il Chelsea che continua ad attaccare. Chelsea avanti col punteggio 1 a 0 e ho portato il rischio rendimento 1 a 1. Mason Mount con la Crystal Palace ha sbilanciato, ha dato il doppio vantaggio alla Chelsea quando siamo arrivati al 77esimo minuto di gioco e questa è la situazione sul mercato under over. 1,5 risulta vincitore il mercato dell'over 1,5. 91 euro e 25 centesimi portati a casa. Nel momento in cui ha segnato il primo gol il Chelsea con l'off to check. Ho guardato il potenziale rendimento. Il potenziale rendimento era molto vicino alla possibile massima perdita di 100 euro. E quindi senza saperne leggere ne scrivere ho messo a free risk l'investimento. Quindi qualora Chelsea Crystal Palace fosse terminata 1 a 0 non avrei perso assolutamente nulla, non avrei guadagnato nulla. Ma nel tempo stesso un secondo gol mi dava un potenziale profitto pari o quasi alla potenziale perdita. E tutto questo in un protocollo di un certo tipo con le quattro puntate che entrano a regime durante il corso del match mi dà un'indicazione molto importante. Ossia mi basteranno il 51 per cento dei match. Mettiamo 55 perché il rendimento è di poco inferiore al rischio in una situazione del genere. Ma mi basteranno il 55 per cento di match sbloccati più o meno nella stessa medesima maniera. Quindi nei primi 20-25 minuti del secondo tempo fondamentalmente. Mettiamo 55 per cento di match.